L'Istituto Ettore Maiorana di Gela, palesso Fermi, da oggi ha un campo di calcetto. Sorge incontrata a Marchitello, l'inaugurazione è avvenuta questa mattina. Per l'occasione si è svolto anche un triangolare di calcetto tra le squadre dello stesso istituto. C'è stata anche un'esibizione delle alunne del liceo artistico e dei servizi sociali. In genere quando si realizzano delle strutture sportive, poi si cedono alle società che se ne occupano in maniera autonoma. Noi invece abbiamo pensato di condividerla con tutte le altre scuole di Gela, mediante dei tornei che indiremo a breve, che coinvolgano tutti i ragazzi delle superiori, anche perché vorremmo che venisse superata quella barriera che normalmente si crea fra una scuola e l'altra. Noi vogliamo superarla e creare l'amicizia fra i ragazzi di tutte le scuole. Qualunque attività motivante e gratificante allontana i ragazzi dalla strada e insegna anche loro le regole del vivere civile, come lo sport, perché uno sport non si può praticare se non si conoscono le regole, e insegna anche a rispettare l'altro. È stata realizzata con dei fondi europei che quando io sono arrivata temevamo fossero andati persi. Pensavamo che ormai, nonostante la gara fosse stata espletata e tutto quanto, che ormai i tempi fossero scaduti. Invece siamo riusciti a riacciuffarli, nel vero senso della parola, questi fondi europei che erano tra l'altro di entità notevole. Non solo abbiamo creato questo campo di calcetto che è veramente bello, ma abbiamo realizzato un grandissimo impianto fotovoltaico che si trova sul tetto della struttura principale, abbiamo realizzato la climatizzazione delle aule e messo a norma tutto l'impianto elettrico. Ciò è stato possibile grazie alla sinergia con i tecnici della ex provincia, l'attuale libero consorzio, che ci hanno supportati dal primo momento. Li ringrazio veramente insieme al commissario straordinario, perché senza il loro supporto tutto ciò non sarebbe stato possibile. Alla cerimonia di oggi era presente anche il vice sindaco Simone Siciliano. Una nuova struttura sportiva all'interno di un blesso scolastico, tutte queste strutture servono ad avvicinare i giovani allo sport, allontrandoli da devianze di un base molto vasto che deve recuperare sicuramente quel vuoto infrastrutturale di strutture sportive che possono fare gelare, un riferimento sicuramente per il comprensor.